Che il PNRR sia un'occasione più unica che rara per ricevere denari utili ne sono convinti tutti. Altra cosa è sapere come e dove spendere queste insperate risorse senza vanificarne gli effetti positivi sul territorio. Di questo si è parlato oggi a Montesilvano nell'incontro organizzato dai sostenitori della Nuova Pescara. L'occasione è servita anche per sottolineare il rischio commissariamento dell'Unione dei tre comuni di Montesilvano, Spoltore e Pescara. Siccome nella legge regionale è scritto anche cosa accade in assenza dell'iniziativa politica, il rischio è che comunque con questa legge regionale la Nuova Pescara, il rischio è che lo faccia qualcun altro, cioè il commissario. Ora io dico che la politica deve lavorare anche se i tempi che ci sono rimasti non sono lunghissimi, ma per quel che dobbiamo fare sono sufficienti. Le maggiori resistenze sono sempre quelle che ormai sono note, la perdita dei campanili, la perdita delle posizioni politiche, delle posizioni storiche. Però noi siamo di fronte ad un percorso che ha avuto un suo iter, un referendum, una legge regionale. Questo iter si è già consumato dentro a questo percorso di fusione, tutte le direttrici, quindi dei finanziamenti che possono pervenire e possono essere molti, vanno progettati in sinergia e non all'interno delle varie municipalità, che altrimenti non tengono conto di questo percorso che è in corsa. Bisogna precisare che la nuova Pescara non è una cosa che verrà, ma è una cosa già sancita dal legislatore a seguito di un referendum che peraltro ha avuto un risultato ineccepibile. Io credo che ci sia un'opportunità unica, è un po' come nel dopoguerra il piano Marshall ha dato la possibilità alla nazione di riprendersi. In questo momento ci sono dei fondi eccezionali per la stessa ragione fondamentalmente e per la nuova Pescara è un'occasione unica. Spesso si è lamentato il fatto che per uniformare tutti i sistemi, per creare le infrastrutture che servono a questa nuova conurbulazione non ci sarebbero fondi. Ecco ora i fondi ci sono, l'importante è che le amministrazioni ancora in carica capiscono che non devono tirare fuori dal cassetto i loro progetti in autonomia, ma c'è bisogno di una condivisione, c'è bisogno di una visione.